Oggi parliamo di stile. Ciao e benvenuti in questa nuova lezione del mini corso introduttivo di scrittura creativa. Io sono Michele Renzullo, scrittore, editor e fondatore della primissima accademia online di scrittura creativa. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale per non perdere le altre lezioni gratuite. Vi condivido come al solito le slide e oggi parliamo appunto dello stile. Come possiamo definire lo stile? Lo stile potrebbe essere definito come l'insieme delle tecniche narrative usate dallo scrittore, mentre la voce è il risultato finale delle scelte effettuate dallo scrittore, dove appunto scelta è la parola chiave. Se avete presente Hemingway, che andremo a vedere a breve, usa delle frasi brevi. Brevi. Saramago, periodi lunghi, con una punteggiatura un po' particolare. Andrea De Carlo, ad esempio, ha una cifra stilistica con delle congiunzioni copulative. Se avete presente, usa molto questo modo di elencare le azioni. Elena raggiunse la stanza e prese la borsetta e le chiavi e la bottiglietta d'acqua e il profumo e infine eccetera eccetera. Quindi è proprio una sua cifra stilistica. Andiamo a leggere un brano tratto da l'uomo duplicato di Saramago. Se non l'avete letto, vi consiglio assolutamente di farlo. Sono io, disse, e di nuovo sentì che i peli del corpo gli si rizzavano. Non era vero, non poteva essere vero. Qualsiasi persona equilibrata casualmente di presente lo avrebbe tranquillizzato. Che idea, mio caro Terculliano, abbia la bontà di osservare che lui abbaffi mentre lei ha il viso rasato. Le persone qui date sono così, hanno l'abitudine di semplificare tutto. Ci fermiamo qua. Beh, è bellissima questa ultima frase. Vi faccio notare che questo che vedete non è un mio errore di trascrizione, non è un refuso, ma che idea, mio caro Terculliano, abbia la bontà di osservare eccetera eccetera, che è una frase diretta, diciamo, di questo ipotetico interlocutore. In teoria, secondo una, come dire, le norme redazionali classiche avrebbe dovuto essere tra virgolette, invece lui cosa fa? Mette una virgola e poi inizia appunto la battuta con la maiuscola, cosa che appunto sarebbe sbagliato, ma è una sua cifra stilistica. Le scelte linguistiche non sono esclusivamente di natura tecnica, ma rispettano la personalità del narratore e direi anche dello scrittore. Vediamo ora adesso quindi quali strumenti linguistici possiamo utilizzare per agire appunto sullo stile. Scrivere un romanzo, così come nella vita, d'altronde è proprio una questione di scelte. Dobbiamo scegliere il tema, il punto di vista, un sacco di altre cose, fino proprio alla parola, alla singola parola. E infatti vi invito in fase di revisione di controllare parola per parola se è quella più calzante che avete utilizzato. Facciamo un esperimento, ok? Ora, se io vi dico era bionda, ma di un biondo, vi do tre secondi, tre, due, uno, che vi viene in mente? Bene, molto probabilmente vi sarà venuto in mente, ma di un biondo cenere, ma di un biondo paglierino, eccetera eccetera. Comunque tutte parole legate al colore o qualcosa del genere. E invece era bionda, ma di un biondo spiacevole. Questa parola, questo aggettivo, arriva in modo inaspettato, completamente. Dove sono andato a prendere questa frase? Da un bellissimo romanzo, i ragazzi del Masato, del mitico Scerbanenco. Se ancora non conoscete Scerbanenco, allora vi invito a mettere il video in pausa e correre immediatamente in libreria a comprare un po' tutta la produzione di Scerbanenco. Quindi noi notiamo come, con due parole, quindi con un sintagma, non solo vediamo appunto descrivere i capelli, ma ci fa anche intuire i tratti della personalità della persona. Una persona forse non molto vistosa, quasi sciatta, che vuole passare inosservata, ingiudicata, ma denota anche il punto di vista e la sensibilità del narratore che ha notato questa cosa, questo particolare. E notiamo come la voce, una voce attenta, precisa, tagliente e sarcastica. Leggiamo un altro brano, questo è proprio l'Incipit del giorno della civetta. Incipit meraviglioso. L'autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singolti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba. Sfilacce di nebbia campanile della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante ed ironica. Libri di dettaglio. Chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. Al di là del contenuto vediamo proprio la bellezza, la musicalità di questa frase, di questo paragrafo. Infatti vediamo come la scelta, ad esempio, della parola panella contestualizza già tutta un'epoca e un ambiente. E poi notiamo anche la semplice ripetizione appunto del sostantivo panello, no? Che appunto imita un po' il cantilenare del panellaro. Poi abbiamo parole come rombo, ok? Che sono onomatope, che fa sfasciume. E vediamo come sarà molto abile Sciascia a riprodurre il regionalismo e il registro linguistico delle classi sociali dei protagonisti del romanzo. Per scegliere, quindi in base a che cosa noi scegliamo le parole più adatte, beh, dobbiamo conoscere bene il narratore. Se noi stiamo scrivendo un romanzo dal punto di vista di un bambino di 11-12 anni, mi viene in mente, io non ho paura di Amaniti, chiaramente dobbiamo usare un registro linguistico diverso rispetto a se scriviamo un romanzo scritto dal punto di vista, che ne so, di un detective o di un ingegnere o di un chirurgo. Abbiamo parlato di parole, parliamo di frasi. Quindi, se la scelta delle parole corrisponde a una scelta di paradigma, il come mettere in fila le frasi corrisponde a una scelta di sintagma. Le scelte principali relative alle frasi sono la lunghezza e la struttura. Leggiamo due estratti, estratti da due romanzi molto diversi, di datori molto diversi, Fitzgerald e Hemingway. Proviamo a notare proprio la sintassi. Un giorno di maggio. C'era stata una guerra combattuta e vinta, e la grande città dei conquistatori era attraversata da archi trionfali e corone di fiori bianchi, rossi e rosa. Nei lunghi giorni di primavera i soldati marciavano per la strada principale, accompagnati dal rullo dei tamburi e dal suono giocoso degli ottoni, mentre commercianti e impiegati lasciavano le loro occupazioni e accalcandosi alle finestre voltavano le loro facce pallide sui battaglioni in transito. Questa notiamo? Notiamo due frasi, due frasi molto lunghe, sontuose e ricche di aggettivi e contro Hemingway erano tutti ubriachi. Ogni componente del protone era ubriaco e attraversava la strada al buio. Camminavamo per tutta la notte nell'oscurità e il sotto ufficiale teneva ad occhio il mio accendino e diceva spegni, è pericoloso, possono vederti. Eravamo a 50 km dal fronte ma lui si preoccupava per la fiamma del mio accendino. Era divertente. Notiamo proprio come cambia il ritmo, ok? Notiamo come sia molto parco nell'uso di aggettivi e avverbi, insomma è una cosa completamente diversa e dà un'impressione, ok? Completamente diversa al lettore. Quindi non c'è un giusto o uno sbagliato, semplicemente noi dobbiamo impadronirci appunto delle tecniche per usarle a nostro favore. Quindi diciamo che con frasi brevi il ritmo diventa incalzante, ok? Con frasi lunghe il ritmo si rallenta e alternando frasi brevi a frasi lunghe possiamo gestire il ritmo, dare un po' di brio, un po' di vivacità. Mi capita di leggere testi, appunto, parto sempre dalla mia esperienza di editor, di appunto aspiranti autori e diciamo che sulla pagina appare un po' statica, proprio perché lo scrittore ha imparato a scrivere in un certo modo e scrive sempre in quel modo lì, che non è, come dire, sbagliato di per sé, soltanto che se uno scrive sempre con frasi brevi poi diventa veramente una cantilena per tutto il romanzo. Se uno scrive sempre con frasi molto lunghe, articolate e dove comunque corre a volte se uno non ha padronanza e il rischio di essere un pochino, di fare delle frasi un pochino anche contorte, difficili da seguire, il lettore va un po' in confusione. Quindi dobbiamo gestire, dobbiamo usare il calibro. Proviamo a leggere una frase e vedere che effetto ci fa. Lilli si era distesa sul vecchio divano in cuoio marrone, la mano destra a sostenere la testa, appoggiata sopra il bracciolo, e la sinistra a reggere un libro dalla copertina spiegazzata. Si potrebbe pensare che era immersa nella lettura. Non era così, pensava d'altro. Cosa possiamo notare qui? Che a fronte di questa frase lunga e armonica, vediamo con ricchezza di tinteggiatura, per esempio, i due punti che vengono usati pochissimo, ecco che poi la frase, le due frasi che staccano e vanno in contrapposizione alla frase che la precede, non era così. Perché? Perché è una frase breve, composta di tre parole, chiusa tra punti. Quindi dobbiamo imparare a, appunto, impadronirci di tutte le tecniche per gestire lo stile. Di cose, come al solito, vi dico, ce ne sarebbero da dire ancora tantissime e da portare tantissimi altri esempi, ma oggi ci fermiamo qui e io vi do appuntamento alla prossima lezione di questo mini corso gratuito di scrittura creativa. Ciao!